Allora, fuga da linea, fuggi da linea e non lascio mai che ti raggiunga Salta e attacca, va bene Ok Madonna mia Madonna mia che crudeltà inumana Vabbè effettivamente Pure l'acqua, pure l'acqua No e dai Va bene, va bene, ci sto, ci sto, va bene Dobbiamo apparendere effettivamente dove si nascondono Tutti gli oggetti, vabbè qua l'avevo evitata Questa è una bugia Dai L'avevo Evitatissimo quello Oggi è un nuovo giorno Oggi è un nuovo giorno Oggi è un nuovo giorno Eh oggi è un nuovo giorno Oggi è un nuovo giorno in cui viene pestato chicken Mi dispiace dirtelo Madonna Oggi è un nuovo giorno Oggi è un nuovo giorno Sì Vabbè dai Vabbè Chi se ne frega ascolta delle fettucine Tanto ora ci prende Esatto Tra poco devo rifare il livello Sicuro No Lina Vai a farti controllare Dallo psicologo È una pazza sta cosa Cioè se tutti gli animali In questo universo sono comunque esseri senzienti Lina deve avere qualche problema Mi dispiace dirlo Ma Lina ha qualche problema molto serio Che bisognerebbe Diagnosticarle Vabbè sai cosa Così quasi Ci manca solo Una figurina Quasi quasi Mi faccio prendere Ecco Tornateli in classe Pazza Bastone Salta Chicken Salta Pazzo Anche lui No No da capo No Tu ma tu sei impazzito Vabbè dai Teniamo conto che Appena arriviamo Al pezzo Dello skateboard Ma è a parte che veramente Non si sopporta Cioè Parlano tutti In modo comunque Umanamente Plausibile Lei è l'unica che fa versi Strani E che si muove Come un pazzo animale feroce Oggi è un nuovo giorno Ah forse però dovevo prendere Cioè dovevo prendere la mano Ecco perché Forse non mi potevo muovere Mentre Ero sullo skateboard Eh bella domanda Credo che se lo siano chiesto tutti No Brutta Oca delle balle Ero arrivato alla fine Ok Siamo Ritornati Al punto di prima Saltaci che No Lina vatti a fare contro Controllare Ma veramente Cioè Qua c'è qualcosa che Veramente non funziona Lina guarda Semi Dio mio No chicken Non ti bloccare A caso Dobbiamo arrivare al pezzo in cui suona La campanella T'ha salvato la campanella Aia Salta No no Dio mio Io non so Veramente come l'abbiamo evitata qua Però ce la stiamo facendo Ma stai zitto Malfoy Che male Oh Madonna mia Ce l'abbia fatta Credo sia scena sempre animata il gioco Ma siamo ritornati al punto di partenza Ma che palle chicken Dai Ecco cosa insegna questo film Che il bullismo è una cosa divertente Che prendersela con quelli più piccoli va bene E che se uno sbaglia Deve essere deriso per questo La scuola italiana insomma E che giustamente per gli errori degli altri Dobbiamo pagarne noi le conseguenze Anzi più che per gli errori Per la cattiveria degli altri